Aria 10.000 dollari diventa una resistenza importantissima per quanto riguarda i mercati delle criptovalute perché bitcoin continua a rimbalzare su questa resistenza, non riesce a romperla in nessun modo e torna indietro quello che sta succedendo dopo l'alving ragazzi è un atteggiamento un po' particolare dell'intera struttura che riguarda la blockchain e bitcoin io sono alle prese con una valutazione di quelli che sono alcuni segnali dei miei indicatori fondamentali sui mercati delle criptovalute faccio riferimento alla transaction fee come ben sapete la utilizzo spesso anche come indicatore fondamentale per capire come si muovono alcuni miners come si muove la blockchain in generale quindi quelle che sono le caratteristiche un po' strutturali del mercato criptovalute post-alving sta cambiando un po' pelle questa transaction fee ragazzi monitoro sempre le balene con il wealth accumulation index il VIE che è uno dei miei primi indicatori che teniamo monitorato in academy e ragazzi ci sono un po' di movimenti anche la lash rate sta calando come si ci aspettava insomma per tirare le somme ci vorrà un po' di tempo ragazzi perché in questo momento secondo me molti attori del mercato criptovalute stanno cercando di capire cosa fare quindi c'è un po' di indecisione che io vedo anche sul prezzo bene ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video dove andremo a fare un'analisi di natura ciclica e tecnica su bitcoin e su ethereum per capire quello che sta succedendo in questa fase guardando i prezzi ragazzi ma in settimana voglio farvi vedere anche un indicatore un nuovo grafico che è molto 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 valido per capire anche la relazione delle altcoin con bitcoin ragazzi perciò iscrivetevi se non volete perdervi questi nuovi video che arriveranno in questa settimana lasciatemi come sempre un grande pollice in su per questi contenuti e fatemi sapere nei commenti quello che pensate voi e soprattutto a parte gli holders ragazzi quelli che sono un pochettino più investitori oculati quelli che non stanno fermi sul mercato cosa state facendo scambiamoci un po' di idee nei commenti perché è molto importante anche in questa fase avere punti di vista diversi quindi ragazzi lasciatemi la vostra opinione nei commenti allora senza andare a perderci in discorsi vi devo fare vedere degli indicatori scusate dei livelli di analisi tecnica importanti su bitcoin e la view ciclica che si è modificata sempre relativo a questo mensile non ho ancora aggiornato la view ciclica del lungo periodo ragazzi quella che abbiamo fatto due settimane fa perché? perché semplicemente aspettavo un po' di movimento diverso da parte del mercato mercato indeciso ma la accennerò in ogni caso qui poi farò un video probabilmente nel weekend che cercherà di mettere nero su bianco di queste condizioni mentre le analisi del mercato americano SP500 che è una view ghiottissima che ho condiviso in academy sulla fase dell'SP500 la farò domani quasi sicuramente spostiamoci sui grafici allora ragazzi siamo davanti al grafico di bitcoin quello che vedete qui in questo momento è la mia nuova struttura ciclica quella che ho modificato ve l'avevo accennato la settimana scorsa però il mercato è andato a farmi questo minimo qui è una ripresa troppo forte per essere considerata una gamba C secondo me di questo movimento quindi scusate una gamba B di questo movimento vi faccio capire chiaramente A B C quindi è troppo forte questo rialzo per me rientra a far parte di un mensile più corto perché il mercato sembrerebbe essere anche in sincrono con quello che sta tentando di fare anche il mercato hold ragazzi come avete visto la correlazione tra il mercato hold e bitcoin ve l'avevo già spiegato nel video non c'è e infatti il mercato sta decorrelandosi in maniera abbastanza evidente soprattutto nella giornata di oggi per esempio che bitcoin è negativo mentre il S&P500 è fortemente rialzista quindi completamente distaccato ragazzi come giusto che sia ve l'ho mostrato nel video sulla correlazione ve lo metto su nella mia testa se qualcuno di voi non lo avesse ancora visto allora da un punto di vista di analisi tecnica ci sono dei livelli in questo momento che dobbiamo fortemente tenere in considerazione ragazzi questi livelli sono questo minimo cioè i 9000 ragazzi questo minimo qui e questo massimo che io ho indicato come resistenza di medio periodo a 10.500 non mi basta sinceramente la rottura dei 10.000 perché ragazzi questo livello di resistenza è diventato estremamente importante per cui è veloce e facile che il mercato faccia fake breakout quindi faccia un fake alla rottura dei 10.000 e poi ritorna indietro soprattutto in una fase temporale come questa che vediamo tra un po' ragazzi non mi fido di un break a 10.000 voglio vedere il mercato salire sopra i 10.500 11.000 da un punto di vista settimanale anche perché ragazzi quello è un livello di resistenza tale che se viene breccato in chiusura di un daily in chiusura di una settimana dà una nuova prospettiva a lungo periodo di bitcoin quindi è molto importante perciò non possiamo valutarlo nel semplice breakout di un massimo perché soprattutto con i livelli di manipolazione del mercato criptovalute potrebbe essere un pericoloso fake quindi ragazzi questo è il livello di resistenza che dovete tenere a mente per quanto riguarda bitcoin in tutta la settimana questo è il livello di supporto 9.000 ragazzi 9.100 9.000 ve lo scrivo come sempre facciamo quindi 9.100 ragazzi 9.000 è il supporto che si è avvicinato perché precedentemente vedete era intorno agli 8.000 e qualcosa vi dico chiaramente uno dei miei sistemi di cui vi ho parlato nella giornata di domenica quando vi ho fatto vedere i miei investimenti sulle criptovalute la parte trading quel sistema che vi ho fatto vedere che fa midterm il trading è long su bitcoin ne ho due midterm diciamo il primo è entrato intorno agli 8.650 però ragazzi è possibilissimo che vada a chiudere entro domani anche stanotte dipende dal movimento dei prezzi se rigira quel sistema chiuderà ragazzi però io vi dico anche una logica statistica di quello che sta facendo un trading system allora qui il problema qual è ragazzi da un punto di vista di analisi tecnica i livelli sono banali molto semplici è inutile che andiamo lì a vedere indicazioni ragazzi perché non ce ne sono di altre il mercato è indeciso non sa quello che deve fare perché sopra i 10.500 barra 11.000 prende un trend completamente diverso sotto questo livello continua a riposare ragazzi tutto qui poi magari andrà a decidere dopo perciò in questo momento tutti gli operatori di trading quelli che fanno i movimenti sul lato trading di bitcoin sono indecisi ragazzi questa indecisione si vede moltissimo dal fatto che ogni volta che noi tocchiamo i 10.000 poi veniamo respinti in maniera abbastanza evidente ed è una e sono respinti diciamo i prezzi bitcoin con volumi ragazzi con volumi anche con delle candelone magari in quei 5 minuti quindi arrivano le vendite insomma di chi fa trading non è certamente un problema legato all'investimento di lungo periodo questa cosa qui però è anche vero che questa resistenza è uno spartiacque come vi avevo promesso un leggero accenno all'analisi di lungo periodo è uno spartiacque con la ciclicità di bitcoin perché adesso lo vedremo anche su ethereum ragazzi se bitcoin sale sopra quel livello tecnicamente il nuovo ciclo annuale sarebbe iniziato a marzo e quindi il rialzo potrebbe continuare anche fino al prossimo anno mentre se non supera quei livelli restiamo nella vecchia view quella ribassista o laterale che può durare fino a fine anno e purtroppo per esempio ethereum ragazzi è molto lontano dai precedenti massimi quelli fatti a gennaio se non ricordo male perciò insomma il mercato è indeciso perché ci sono dei segnali completamente ma proprio completamente contrastanti bisogna in questo caso seguire il mercato andando pian piano ragazzi a vedere i cicli mensili quelli che facciamo noi e come sempre anche in questo caso è da un anno che lo dico è un anno che si è verificato questo ragazzi i traders hanno avuto la meglio ancora una volta in tutto l'anno 2019 e anche in questo inizio l'anno 2020 perché perché il mercato per gli holders è sempre stato più complesso in questi anni qui ragazzi perché in sostanza è una barra di congestione gigantesca che oscilla quindi è chiaro che non facendo trend di lungo periodo uno strumento finanziario ha difficoltà ad essere tenuto in cassetto ecco quindi come holding allora da un punto di vista ciclico chiudiamo e poi passiamo subito ad ethereum da un punto di vista ciclico c'è una view che è questa ternaria ragazzi ed è quella che ho condiviso con i miei iscritti i miei amici academy dalla scorsa settimana guardate qui una due e tre questo è il mio nuovo approccio cambiamo colore a questo che non vi piace ragazzi vediamo se riusciamo a farlo di un altro colore ecco più evidente allora ragazzi questo è la forma che io penso possa essere fatta quindi eseguita da bitcoin per quanto riguarda questa struttura ciclica che poi dura circa 78-80 periodi questa fase soprattutto la fase finale vi faccio capire questo ciclo qui ragazzi io l'ho fatto coincidere con la fine di maggio però in realtà può durare tranquillamente anche fino al 6 giugno quindi replicare in pratica un mensile corto da 24 giorni di nuovo e allungare questa struttura a 83 un po' simile all'ultimo ciclo che vedete gigantesco 1-2 ve lo indico di nuovo ok questo ciclo così che era da circa 86 giorni allora è sempre complicato in questo momento valutare bitcoin però ragazzi questa fase in questo momento è diciamo un po' da seguire in questo modo quindi da seguire un po' a pezzo per pezzo ecco diciamo così allora se fosse proprio indicato questo ragazzi bitcoin dovrebbe andare a rompere questo massimo se non lo fa è possibile che questo ciclo in finale diciamo da un punto di vista di mensile corto possa essere purtroppo negativo ragazzi io lo so che molti di voi si arrabbiano perché io continuo a dire queste cose ragazzi però il problema non è in quello che dico io la mia view è pessimista o non pessimista qui il problema sta in quello che il grafico ci dice e non lo posso certamente cambiare voi sapete io sono holder su bitcoin ho fatto vedere la mia posizione di trading di oggi che è ancora long non si sa per quanto gestita dal mio trading sistema però il problema è che il grafico non ci dà ancora indicazioni rialziste ragazzi quindi purtroppo questa sensazione che è avvenuta a posto halving di super scoppio di super rialzo è solo legata ad una enfasi emotiva ragazzi e in questi casi quando avviene una cosa del genere i mercati sono pericolosi ragazzi perché le enfasi di tutti diciamo quelli che siamo all'interno di questo mercato che vedono rialzo a dire basta possono infrangersi davanti a degli scogli importanti o magari a delle fasi di ribasso che lasciano col cerino in mano io sono realista ragazzi e preferisco guardare i prezzi ciò non toglie che sono legato anche alle posizioni long sul mercato sia con la mia parte hold sia con i miei trading system che seguono il trend ragazzi quindi se vedono un trend al rialzo entrano e mi fanno andare long tutto qui va bene però da un punto di vista ciclico questa view che vi ho fatto vedere resta in questo momento purtroppo la view predominante cosa può cambiare da un punto di vista di rialzo che il mercato vada a rompere qui questa resistenza e poi vada a chiudere il suo ciclo mensile questo sarebbe la view rialzista che può avvenire ragazzi tranquillamente anzi io lo spero perché significherebbe che il mercato delle cripto ha iniziato un annuale a marzo e questo ci porterebbe a stare più sereni tra virgolette fino al prossimo anno quindi sarebbe una cosa fantastica per il mercato criptovalute ragazzi quindi però bitcoin deve fare questo con tutto quello che c'è dietro nell'ambito anche dei movimenti sui indicatori fondamentali ragazzi è pericoloso andare a ragionare facendosi diciamo idee un po' particolari la stessa struttura ragazzi la possiamo vedere anche su ethereum ragazzi perché allora vi faccio capire intanto ho spostato un grafico ok vi faccio capire anche ethereum ragazzi qui ha iniziato una nuova fase ma ethereum fa sempre cicli molto simili intorno ai 80-90 giorni ancora una volta ragazzi questa fase così potrebbe potrebbe spingere il mercato verso la fine del mese di maggio i primi mesi di giugno ad andare a fare la close di questo ciclo quindi in pratica ragazzi sarebbe un ciclo così di ethereum un po' simile anche a bitcoin molto semplice dov'è ancora qui la chiave di volta è in questa struttura ragazzi cioè se noi andiamo a rompere la resistenza di ethereum che in questo caso il vecchio supporto che ancora l'ho lasciato normale che è diventato una resistenza ragazzi allora questa resistenza a 225 è la stessa che abbiamo visto bitcoin a 10.500 11.000 se bitcoin romperà i 10.500 è probabile che ethereum seguirà e andrà a rompere questa resistenza allora cambierà anche questa pendenza di questa chiusura ragazzi la chiusura ci sarà comunque ma può essere fatta anche con una semplice fase leggera come qui ok quindi non è che deve fare questa cosa insomma capito ok dobbiamo anche ragionare un po' e capire che i movimenti di mercato sono anche legati alla volatilità quindi un'oscillazione che può essere un po' anche più leggera quindi ragazzi questo è il view rialzista per ethereum e la view che non rompe il massimo a 225 resta questa qui se dovesse iniziare una fase di bassista lo vedremo ragazzi perché su ethereum a livello da tenere a mente 190 ragazzi 190 190 su ethereum 9109 su bitcoin sono dei livelli di supporto fondamentali ragazzi se il mercato li rompe allora la view ribassista prende piede in maniera più aggressiva altrimenti il mercato può stare in barra di congestione fino alla fine del mese siamo tutti felici se poi va su oppure può cercare di rompere al rialzo ma questa è la terra di nessuno ragazzi se fate operazioni qui dovete sapere che ci sono tutte e due le possibilità cioè che il mercato vada a scendere sotto i 9000 e poi vada giù in quel caso vedremo dove con quale target che il mercato vada sopra i 10500 11000 e prenda un trend rialzista di medio periodo in quel caso sarebbe molto bello e ethereum ovviamente dovrebbe andare sopra i 225 ma se vedete per esempio ethereum ragazzi il massimo che gli fa invertire il trend di medio è lontanissimo è a 285 cosa che invece bitcoin ha già raggiunto questo perché perché i mercati delle criptovalute sono sempre legati alla dominance di bitcoin che sembrerebbe aver ripreso nuovamente un trend rialzista lo vedremo nei prossimi video perché le indicazioni sulla dominance di bitcoin ci danno delle buone indicazioni anche su quella che è la struttura dell'andamento delle criptovalute più piccole come le altcoin e spesso fasi rialziste della dominance di bitcoin non sono state positive per il mercato criptovalute perciò dobbiamo andare a guardare questo indicatore e fare tutte le nostre riflessioni bene ragazzi vi ringrazio per questo video ghiottissimo stracolmo di contenuti operativi fatemi sapere quello che ne pensate e come sempre noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti